Appassionati e collezionisti, bentornati sul mio canale! Finalmente ci siamo, finalmente andrò ad aprire tutto il pacco proveniente dall'America perché è arrivata la seconda mandata di figurine e carte che ho acquistato in America e se ti sei perso il primo video dello spacchettamento di materiale dall'America ti lascio altrimenti il link io ho la fortuna di possedere infatti una casella americana insieme naturalmente ad altri amici collezionisti e questo mi permette di avere un indirizzo americano da poter così farmi spedire tutto il materiale come appunto se avessi un indirizzo in America è uno dei tanti servizi offerti appunto in America che permette a tutti noi collezionisti europei di poter accumulare le carte acquistate direttamente in America un mercato che diciamo è molto differente rispetto al nostro europeo soprattutto per il mondo calcio infatti questo mi permette di fare diversi affari molto interessanti proprio come quelli che ho acquistato e vi mostrerò a breve ripilogando quindi è possibile acquistare tante carte farci spedire a costi veramente più bassi alla casella americana accumularli per poi farci spedire in Italia con l'unica spedizione naturalmente pagando dogana e naturalmente il costo della spedizione e per questo in base anche ad accordi con altri collezionisti vengono accumulate tante di quelle carte che quando arrivano sembra di essere Natale infatti oggi per me è Natale ragazzi guardate quante carte gradate e non ci sono all'interno di questo pacco e in questo video ne approfitto per parlare di una cosa molto molto importante queste carte e figurine o meglio la maggior parte saranno disponibili in vendita o in scambio il primo giugno a Milano al primo card show italiano di carte sportive e non solo il Collected appunto il primo card show italiano che si terrà il primo giugno a Milano in via Tortona 27 presso i Super Studios 800 metri quadrati di stand dedicati al mondo delle carte sportive e non solo organizzato dai ragazzi di card scuro e card core vanta main sponsor come la Topps Italia ma platinum sponsor come Dave & Adams e si mormorano addirittura ospiti veramente incredibili naturalmente io vi invito a seguire il Collected anche su Instagram naturalmente vi lascerò in descrizione tutti i link dedicati sia al sito che alla loro pagina e mi raccomando ragazzi andate a prendervi il biglietto e partecipate a questo evento che sarà veramente grandioso Android 12 tutto gratuito e poi sono due tipi di biglietti abbiamo lo standard a 18 euro con la classica ingresso e la welcome bag se disponibile ma quello che io vi consiglio è il VIP ticket un costo naturalmente maggiore perché costa 35 euro ma vi permette di partecipare alla trade night della sera prima per trade night appunto si intende una serata fatta prima del card show che permetterà a tutti i collezionisti di poter mostrare e vedere le altre collezioni per poter così fare affari già prima che apra il vero card show ma soprattutto anche permette di conoscere finalmente di persona i vari collezionisti e poter così parlare della propria passione e come dicevo io avrò un tavolo insieme ad altri ragazzi dove potrò fare un po' di show o meglio mostrare un po' parte della mia collezione per farmi conoscere anche ad altri collezionisti oltre che naturalmente vendere pezzi secondo me molto molto interessanti proprio come quelli che troveremo oggi in questo unboxing e naturalmente se passi al card show e mi vedi passa a salutarmi perché fa molto piacere avere modo così di conoscere tutti i miei follower, i miei iscritti e potete appunto scambiare qualche opinione insieme e mi raccomando se ancora non l'hai fatto iscriviti al mio canale attivando la campanellina perché è tutto gratuito e tutto per voi collezionisti e appassionati e mi raccomando metti anche un bel mi piace se questo video naturalmente è di tuo gradimento naturalmente seguimi anche su instagram gone.test perché è lì che vi aggiorno quotidianamente su tutte le novità appartenenti a questo fantastico mondo ma ora non c'è sta che spacchettare questo pacco e dall'america e vedere quante belle chicche sono arrivate ed ecco il pacco dall'america guardate qua quante figurine e carte gradate ci sono al suo interno naturalmente anche figurine e carte in versione raw e infatti partirei proprio da queste per lasciare così la parte più succosa alla fine e non potevamo iniziare nei migliori dei modi proprio con la historic ticket di Gianluigi Buffon in maglia Juventus panini contenders del Chronicle del 2019-2020 continuiamo con i portieri infatti abbiamo la rookie card di Marco Carnesecchi della Chrome numerata su 50 quindi bellissima anche questa da tenere in collezione magari anche in ottica futura visto che sta facendo veramente un ottimo campionato rimaniamo sempre in serie A con ben due patch abbiamo la Tool on the Trade di Blaovic numerata su 199 della Chronicle guardate che bello il pezzettino qua che si vede nel nero naturalmente non associata e una stupenda Immaculate su 10 sempre di Dusan Blaovic anche se in questo caso è anche questa non associata e poi abbiamo lui Jude Bellingham in questa carta che è certificata NBA quindi del 2022-23 una Refractor Aqua Prism del Topps Merlin naturalmente non numerata ma veramente molto carina anche perché il giocatore è fantastico tornando alle Rookie Card abbiamo ben due tipi di Valentin Carboni della Top Scrum 22-23 naturalmente differente abbiamo una Purple Gold Seismic Refractor e una invece che è numerata perché è la Pink Shimmer Refractor numerata su 2,50 ed ecco uno dei papabili investimenti che ho fatto in America abbiamo preso la Rookie Ticket di Elby Lalture non una ma bensì uno, due, tre, quattro e cinque con una versione appunto anche in questo modo che non mi ricordo bene il nome e a volte gli investimenti non vanno come si crede infatti ecco qua due carte Rookie Card autografate da Lewis Ferguson purtroppo ragazzo si è infortunato gravemente e doveva saltare ormai tutto il campionato l'europeo e il possibile passaggio ad una squadra big ah dimenticavo che ho preso anche l'autografo della Rookie Card di Valentin Carboni dello Stadium Chrome ma abbiamo anche delle leggende della nostra serie A appunto del Piero della Top Scrum Sapphire della Legend Variation Yellow numerata mi pare esatto su 99 e una Frank Rancard Merlin's Masters Refractor Blue 75 su 75 e figuratemi se non mi prendevo anche la Lionel Messi in maglia Inter Miami della Top Scrum MLS naturalmente ho aggiunto anche tre autografi che mi mancavano nella mia collezione abbiamo Paolo Sousa Obsidian Aurora numerata 199 Daniela Rugani 2,99 della Top's Museum qui Archival Autograph e l'immancabile sorrisino Smile di Eling Junior nella sua Rookie Card della Top Scrum e lo so che aspettavate le figurine ed eccola qua non potevo che iniziare con il botto la 1997 panini European Football Stars Ronaldo in maglia blaugrana guardate qua che bella non molto centrata ma condizioni veramente spaziali e poi se siamo in America non posso che acquistare anche carte del NBA questo è il set completo Funimation del Upper Deck 92-93 i migliori giocatori dell'epoca raffigurati come supereroe Mutumbo The Warrior il postino Karl Malone di Mailman Birdman Larry Bird Agent 23 niente un po' di meno che Michael Jordan e poi naturalmente Birdman e Agent 23 in posa da supereroe finite tutte le carte e figurine a Raw poi si passerà naturalmente alle gradate ma prima vuole sapere nei commenti qual è quella che preferite tra quelle che abbiamo appena visto e naturalmente vi ricordo che la maggior parte di carte che verranno mostrate saranno disponibili al mio tavolo al Collected ma iniziamo subito la nostra carrellata di gradate con Ronaldo PSA 8 la panini checklist ragazzi calcio 98 infatti la curiosità di questa carta è che è una checklist con dietro naturalmente il buon vecchio Ronaldo e poi si ragazzi visto che non mi accontentavo di due firmate ho preso anche la PSA 10 firmata da Lewis Ferguson e finalmente un po' di storia delle figurine infatti ecco qua Paolo Maldini Italia 90 PSA 6 bellissima questa e dopo Maldini non poteva esserci che anche Calulu Refractor PSA 10 della Top Scrum 2122 naturalmente Rookie Card e poi ben due Rookie Sticker di Dusan Vlaovic della collezione FIFA 365 2016 purtroppo con voti un po' base abbiamo fatto un 8 e un 7 ma facciamo ancora un passo indietro ancora Italia 90 lui è Marco Van Basten PSA 7 naturalmente abbiamo anche il biondino con la Road to Istanbul 23 che appartiene naturalmente alla collezione Tops UEFA Champions League 2223 appunto Road to Final Gem Mint 10 la puntata e naturalmente l'ha vinta altro passo indietro siamo nel 1998 in Francia World Cup Francia 98 Alessandro Del Piero voto 4 eppure ragazzi è stupenda ancora Italia ma salto in avanti infatti siamo nel 2022 23 con la set FIFA Nicolo Barella Tie Dye Mint 9 questa è stupenda dal vivo lo è ancora di più naturalmente numerata su 49 e ancora Dusan Vlaovic con la sua bronze extra sticker del World Cup 2022 Qatar però brasiliana SGC 9.5 particolarità appunto è scritta che è in made in brasil e non naturalmente in Italia ancora una SGC 7 ma perdonatemi questa è stupenda 97 98 Mundi cromo Ronaldo ancora in maglia blaugrana la sficas della liga guardate che bella ancora carne secchina questa volta PSA 9 Sapphire Edition Purple numerata su 25 e poi ecco la figura più vecchia all'interno di questo pacco 77 78 april campionato brasiliero Rivelinio SGC 2 un pezzo della storia del Brasile ennesima rookie card questa volta Yusufa Moukoku in maglia Dortmund GSG 8.5 della Topsnow 2020 ancora pezzi di storia Marco Van Basten Euro 88 PSA 5 mamma mamma mia ancora rookie Tops now ma questa volta Beckett 9 entrambe Jamal Musiala in maglia appunto Bayern Monaco e come dicevo all'inizio al Collected non ci saranno soltanto carte di calcio ma anche queste due stupende Marvel Universe Impel del 1991 PSA 9 e Cyclope PSA 8 e visto che il 2023 è il centesimo anno della Disney non potevo che portare anche 3 PSA 9 Joyful appunto Disney 100 Elsa Ursula e Biancaneve eccoci giunti alla fine di questo video e prima di lasciarvi vi voglio ricordare che queste carte o meglio la maggior parte di queste carte sono disponibili al mio tavolo al collective ma prima di salutarvi volevo lasciarvi con due domande secondo voi qual è la carta o figurina che ho pagato di più all'interno di questo malloppo e tra tutte queste qual è quella che voi preferite naturalmente fatelo sapere nei commenti e mi raccomando lasciate un bel mi piace a questo video noi ci vediamo naturalmente alla prossima ciao a tutti